Nessun medico per l'ospedale di Sciacca a seguito delle nuove assunzioni ed immissioni in servizio di personale sanitario presso l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Con una serie di provvedimenti deliberativi finalizzati al potenziamento degli organici, la direzione aziendale ha definito il reclutamento di diverse figure professionali che andranno però ad alleviare le carenze di personale solo in alcuni degli ospedali agrigentini. Nel dettaglio per quanto riguarda il personale medico si tratta di cinque dirigenti medici di radiodiagnostica, tre dei quali presteranno servizio presso il san Giovanni di Dio di Agrigento e due al san Giacomo d'Alto Passo di Licata, cinque nuovi geriatri e un dirigente medico di medicina fisica e riabilitativa. Per i medici neoassunti attraverso nuove selezioni o lo scorrimento di graduatori esistenti l'attribuzione dei posti a tempo indeterminato. In regime di incarico libero professionale sono invece stati reclutati sei dirigenti medici da destinare al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento e due a quello di Canicattì. A questi si aggiungono l'immissione in servizio di un medico già collocato in quiescenza per il pronto soccorso di Agrigento e la proroga d'incarico per un altro professionista d'esperienza ancora al pronto soccorso di Canicattì. Oltre ai medici vengono assunti anche otto ausiliari specializzati a seguito della convenzione per l'inserimento lavorativo di unità disabili stipulata con l'assessorato regionale alla famiglia politica e sociali e del lavoro servizio centro per l'impiego di Agrigento e due operatori sociosanitari attraverso mobilità regionale. Attraverso un'assegnazione temporanea è stata infine reclutata una nuova infermiera professionale. L'azienda ha commentato il commissario straordinario Mario Zappia è costantemente impegnata in un percorso di crescita sviluppo e miglioria dei servizi sotto questo profilo l'implementazione degli organici rappresenta la priorità assoluta su cui continueremo a lavorare con il massimo sforzo.